Ciò che avrebbe dovuto essere un intervento di sistemazione agraria si è rivelato in un devastante attacco all'ambiente. I carabinieri forestali dei nuclei di Città Nova e Santo Femme da Spromonte hanno scoperto un'area di cantiere aperta su terreni paesaggisticamente vincolanti dove una ditta di costruzioni stava eseguendo lavori ben oltre i limiti concessi. Durante il controllo i militari hanno rilevato massicci movimenti di terra operanti da mezzi meccanici su terreni vincolati in particolare lungo le rive del torrente Duverso nella comune di Seminara. Invece di semplici operazioni di riprofilatura per la piantumazione di un pioppeto come previsto dalla modesta organizzazione paesaggistica semplificata ottenuta si è constatato un deterioramento sostanziale dello stato dei luoghi e della loro morfologia naturale. Le indagini hanno portato alla luce diverse violazioni come movimenti terra abusivi, realizzazione di argini, spostamento di corso d'acqua e eliminazione della vegetazione ripariale. I militari hanno rilevato inoltre gravi ipotesi di reato tra cui inquinamento ambientale, violazioni passaggistiche ed edilizie. La ditta infatti invece di limitarsi ad interventi agricoli autorizzati ha eseguito attività estrattive e movimenti terra senza le necessarie autorizzazioni modificando significativamente e illegalmente lo stato dei luoghi. Le indagini sono state supportate anche dall'uso di droni che hanno documentato l'alterazione al corso d'acqua e l'impatto ambientale. Le immagini catturate hanno infatti evidenziato come il torrente originariamente centrale nelle aree lavorate fosse stato spostato ai margini tramite argini artificiali coinvolgendo anche terreni non autorizzati. e la lettera di qualità è la legge del corso d'acqua